Se vi chiedessi dove è nata l'Unione Europea, cosa mi rispondereste? Giustamente qualcuno dice Roma o Maastricht, eppure l'idea di un'Europa unita nasce soprattutto tra le fila della resistenza, tra la gioventù che si è formata con l'educazione europea delle bombe e dei massacri del secondo conflitto mondiale. Educazione europea è proprio il titolo di un bellissimo romanzo che racconta la storia di un gruppo di partigiani polacchi che usano ironicamente l'espressione educazione europea per riflettere su cosa l'Europa avesse insegnato loro. Questo insegnamento è condensato nelle parole di Janek, il 14enne protagonista del racconto, che a un certo punto dice che l'Europa è il luogo delle università migliori, in cui si viene da tutto il mondo per istruirsi, ma che alla fine tutto quello che ti insegna questa famosa educazione europea è come trovare il coraggio e delle buone ragioni per ammazzare un uomo che non ti ha fatto nulla. Se vi chiedessi invece a cosa associate l'idea di un'educazione europea al giorno d'oggi, presumo che la maggioranza penserebbe subito all'Erasmus. Ecco, nel corso di qualche generazione si è inverata un'Europa diversa da quella di Janek e dei suoi compagni. A me colpisce sempre pensare come per molti giovani del passato la guerra sia stata l'unica forma europea di integrazione sociale. Certo, un'integrazione forzata, paradossale, ispirata al nazionalismo, cioè all'amore per la propria nazione che si trasformava in odio per le altre. Ed è proprio per questo che quella di Unione Europea è stata un'idea carica di immaginazione, perché ha permesso di riscrivere percorsi di integrazione non solo fra stati, ma soprattutto fra cittadini che fino a qualche anno prima si erano fatti la guerra. L'Unione Europea nasce come progetto di civilizzazione che ha creato uno spazio trasnazionale in cui sono emerse nuove forme di solidarietà fra popoli europei. E lo strumento attraverso cui si è fatto tutto questo è stato il mercato unico. Spesso si tende a ridurre l'Unione Europea alla sua dimensione strettamente economica, al mercato, ma il mercato non è mai stato davvero un fine in sé, ma al contrario è stato un mezzo, se vogliamo anche simbolico, attraverso cui ridefinire i rapporti fra le nazioni europee. La cittadinanza europea ha poi completato questo percorso di avvicinamento. Se infatti col mercato unico solo i lavoratori potevano spostarsi in altri stati, grazie alla cittadinanza europea chiunque, non importa per quali ragioni, può circolare liberamente nel territorio dell'Unione, sentendosi un po' meno straniero. La mobilità è quindi la cifra di questa nuova cittadinanza. La libertà di circolazione, la libertà di percorrere nuove strade fisiche e metaforiche. Oggi le percorreremo insieme, percorreremo un po' anche la mia e scopriremo quelle che ancora devono essere costruite. Quanti di voi sono nati negli anni 80 e 90? Alzate la mano. Come immaginavo moltissimi. Probabilmente voi vi chiederete cosa ci sia di innovativo in questa cittadinanza. Molti di voi, me compresa del resto, hanno vissuto magari tutta la loro vita senza passaporto. Abbiamo viaggiato, visitato altri stati, con le nostre carte di identità stropicciate, nella maggior parte dei casi senza che qualcuno ci controllasse al confine e senza dover cambiare valuta. Brecht diceva con una nota di amarezza che il passaporto è la parte più nobile di un uomo. E per noi europei, baciati dalla fortuna della geografia, ecco per noi il passaporto sicuramente non lo è. Abbiamo costruito le nostre mappe affettive, i nostri ricordi, su un tracciato che non ha più soltanto la forma di uno stivale. Il mio primo ricordo dell'Europa, ad esempio, è legato alla mia infanzia, al matrimonio siculo inglese dei miei cugini. Ma penso alle tante famiglie e relazioni che non hanno la stessa nazionalità e che vivono in uno spazio nuovo che non è solo geografico, ma soprattutto emotivo. Ma questa nuova spazialità che ci apre i confini e ci permette di attraversarli a nostro piacimento non è scontata. Tradizionalmente, infatti, gli stati hanno il potere discrezionale di decidere chi ammettere e chi escludere sul proprio territorio. La libertà di circolazione europea, invece, è costruita come un vero e proprio diritto vantato dal cittadino europeo nei confronti degli stati membri dell'Unione, che non possono quindi rifiutarne l'ingresso. La cittadinanza europea, allora, non solo ci apre una via, ma ci assicura l'arrivo effettivo a destinazione. Ma fa di più. Non si limita a farci entrare, ma ci dà la possibilità di restare, di stabilire la residenza nello stato in cui abbiamo deciso di trasferirci per vivere, lavorare o studiare. Immagino già che a questo punto i più scettici penseranno che questo della mobilità sia un affare per pochi. Per chi può permettersi di andare a caccia di scommesse opportunità in giro per l'Europa, perché provvisto dei mezzi economici per farlo? E invece no. Storicamente la cittadinanza europea ha giovato proprio i lavoratori salariati, non particolarmente qualificati. Ha permesso ad esempio ai nostri connazionali che lavoravano nelle miniere belghe di migliorare le proprie condizioni di vita. E questo perché la cittadinanza europea predica un importante principio, che è il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità. E questo principio si applica anche all'accesso al welfare nello stato ospitante, cioè l'accesso a tutto quell'insieme di servizi pubblici, prestazioni, benefici, attraverso cui lo stato sociale garantisce il benessere dei suoi cittadini. E quindi grazie alle regole europee al lavoratore straniero, lo stato ospitante deve garantire il pieno godimento degli stessi diritti sociali garantiti ai suoi cittadini. La cittadinanza europea allora non afferma solo la libertà di andare dove si vuole, ma assicura l'uguaglianza e fa qualcosa di inedito, scorporare la titolarità dei diritti sociali dalla nazionalità, cioè i diritti sociali non sono più appannaggio dei suoni relativi. Ho fatto l'esempio del lavoratore, ma potrei benissimo fare il mio. Io mi sono trasferita in Regno Unito nel 2016 pagandomi solo il biglietto aereo. Grazie al mio status di cittadina europea ho beneficiato di una borsa di studio che mi ha permesso di fare ricerca al pari dei miei colleghi britannici. La cittadinanza europea allora mi ha dato una condizione giuridica di uguaglianza sostanziale e, ironicamente, anche la possibilità di fare ricerca sull'Unione Europea in uno stato che aveva già deciso di uscirne. Il Regno Unito quindi non mi ha discriminata per la mia nazionalità e devo ammettere fortunatamente neanche per il mio progetto di ricerca. Ma pensate a quante opzioni che prima erano privilegio di pochi, oggi sono più alla portata di tutti. La possibilità di perseguire i propri interessi, di scegliere le scuole accademiche e i programmi che più ci piacciono e che non necessariamente sono confinati alla sola dimensione nazionale. La possibilità di studiare in una università estera senza per questo dover pagare il doppio delle tasse e usando i titoli di studio conseguiti nel nostro paese. Pensate ai giovani che trovano lavoro al termine dei vari tirocini svolti all'estero. Le stime dicono circa il 51% degli italiani che li hanno svolti. O ancora, pensate ai pensionati che possono ritirarsi in qualche paese assolato del Mediterraneo. Ma soprattutto pensate a come la cittadinanza europea potrebbe cambiare un posto come la Sicilia e spingerci a fare finalmente quel salto di mentalità, spingerci cioè a chiederci non già cosa possiamo fare per impedire ai nostri giovani di partire. Ma al contrario, cosa possiamo fare per attirarne altri? In tutti questi esempi ho fatto riferimento a soggetti diversi dai lavoratori. Ho parlato di pensionati, studenti, giovani in cerca di lavoro. Perché, come dicevo, la cittadinanza europea ha esteso la libera circolazione a tutti gli individui, compresi quelli che, in gergo, vengono definiti con un'espressione abbastanza brutta, economicamente inattivi. Cioè, cittadini che, a differenza dei lavoratori, non hanno una chiara capacità economica. C'è però un grosso limite. Mentre il diritto di movimento in sé è riconosciuto a tutti indistintamente, il diritto di soggiorno degli economicamente inattivi è condizionato al possesso di risorse economiche sufficienti, in modo tale che non diventino un onere per lo Stato ospitante. Questo requisito dell'autosufficienza economica, invece, non si richiede ai lavoratori. Prima della crisi, in pratica, però, questa distinzione non creava grossi problemi ai fini dell'attribuzione dei benefici sociali ai cittadini economicamente inattivi. Perché gli Stati tendevano a non verificare il soddisfacimento di questo requisito dell'autosufficienza. E' un esempio la mia borsa di studio. Io non ho dovuto provare alcunché per ottenerla. Con la crisi economica, invece, c'è il rischio concreto che gli Stati possano cominciare a far leva su questo limite per escludere alcuni cittadini europei dai benefici sociali. La crisi economica ha quindi reso evidente un paradosso che è sempre esistito nelle regole europee. Quello per cui l'assistenza sociale nello Stato ospitante può essere richiesta soltanto dai cittadini europei inattivi che siano autosufficienti, ma che per definizione, se sono autosufficienti non avranno bisogno di assistenza sociale. Emerge allora la necessità di riscrivere queste regole europee e di superare questo cortocircuito generato dall'autosufficienza economica. E ci sono almeno due argomenti che ci impongono di farlo. Il primo è un argomento di uguaglianza politica. La cittadinanza europea è stata istituita al fine di rendere l'Unione un progetto più inclusivo. Oggi invece rischia di creare delle discriminazioni e di escludere dalla libera circolazione una fetta della popolazione, quella senza lavoro, che paradossalmente ne avrebbe più bisogno. C'è poi un altro argomento di ordine logico. La distinzione fra economicamente attivi e quindi lavoratori e inattivi è diventata quasi insensata al fine di stabilire chi è destinato a pesare sul welfare dello stato ospitante, visti i cambiamenti che hanno investito il mondo del lavoro. L'essere lavoratori oggi non equivale automaticamente a disporre di risorse economiche sufficienti, visto il numero crescente dei cosiddetti working poor, dei precari, dei part time, che non guadagnano abbastanza. E soprattutto questa distinzione fra attivi e inattivi non tiene conto di quei soggetti che svolgono una serie di attività, come ad esempio le attività di cura o alcune attività intellettuali che non sono retribuite e che quindi non esistono per le statistiche ufficiali. Occorre allora ripensare la cittadinanza europea, in quanto legata ad un modello ormai superato dalla storia delle relazioni produttive, quella del lavoratore subordinato, a tempo pieno e indeterminato. E occorre ripensarla in funzione della nuova composizione sociale del lavoro, che penso di rispecchiare perfettamente. Mi migrante, femminile, cognitaria. Ci sono tanti cittadini sulla carta inattivi, che pure danno un contributo alla comunità ospitante, contributo che non è sempre monetizzabile o monetizzato. Questi cittadini fanno ormai parte di quella comunità, da cui sarebbe pertanto ingiusto sradicarli. Penso alle donne che svolgono lavoro domessico non retribuito e che a causa di questa stretta sulle prestazioni sociali non avrebbero più accesso a strumenti di emancipazione, ma penso più banalmente anche alla mia storia personale. Io in questo momento mi ritrovo ad avere più legami con l'accademia inglese rispetto a quella italiana e quindi da precaria spererei di non essere discriminata per la mia nazionalità se volessi accedere ad un'altra borsa di studio. Ci serve allora una nuova educazione europea, che scongiuri il rifiorire dei nazionalismi e ci insegna a superare una concezione nativistica del welfare, che vede cioè lo stato sociale come una sfera chiusa, impenetrabile, posta a protezione dei soli nazionali. Occorre invece recuperare la funzione originaria del welfare. La sua vocazione autentica è quella di risolvere le disuguaglianze, non di discriminare fra chi è nazionale e chi non lo è. Il ritorno ad un welfare chiuso su base nazionale, la fine della libera circolazione, a me pare essere il sintomo di un attaccamento nostalgico ad un mondo che non esiste più. È il rigurgito identitario legato al mito della nazione intesa come comunità immutabile. Questa chiusura non può essere la soluzione. Tanti individui appartengono di fatto ad una comunità politica diversa da quella a cui sono stati ascritti alla nascita in virtù dell'arbitrio del caso. La nazione è una categoria affettiva che non può diventare la guida della nostra azione politica. Ed è forse proprio vero che si comincia a parlare di identità quando si smette di parlare di ciò che si ha in comune. E io credo che occorra ragionare su cosa abbiamo in comune con chi vive nel nostro stesso spazio, per costruire delle forme di solidarietà orizzontale, cioè delle forme di solidarietà tra noi individui, che sono poi quelle che stanno alla base della giustizia sociale, della redistribuzione attuata tramite i meccanismi di welfare. Ci servono nuove forme di solidarietà, non più basate sulla nazionalità, ma su una comune condizione socio-economica. Cominciamo a pensare a delle soluzioni che siano europee a problemi che sono già trasnazionali. E per farlo c'è bisogno dell'impegno di tutti. Siamo ormai cittadini d'Europa ed è tempo che l'Europa diventi dei cittadini, per quanto retorica ed inflazionata questa frase possa suonare. Però è proprio vero che è nell'Europa e non più nelle piccole comunità nazionali che si iscrivono ai percorsi del futuro, che sono percorsi per tutti e di tutti. Perché la mobilità europea ci ha consegnato l'intreccio di tante biografie che si svolgono al di fuori dei confini nazionali. E queste vite ci dicono che, per usare le parole di Janek, l'Europa ha già cominciato ad ergersi e camminare attraverso di loro. Grazie. Grazie.